Bruxelles. Un poliziotto è stato accoltellato alle 5.30 di martedì davanti al commissariato centrale in Rio de Marceo e Charbon. I colleghi della gente hanno reagito sparando all'aggressore che non è in pericolo di vita come non lo è il poliziotto. Non sono ancora chiare le motivazioni. L'uomo, un trentenne con problemi psichiatrici, non era nella banca dati dei potenziali terroristi. L'allerta era alta in città dove si stava svolgendo la due giorni di visita del presidente francese Emmanuel Macron.